5 bidoni della Roma Mauro Quaicocea Il 31 agosto del 2012 viene preso in prestito dal Danubio Zeman ha delle aspettative altissime per l'Uguariano che regalerà perle di inestimabile scarsezza mandato via a calci forse il portiere più scarso della Serie A Pulio Battista Si è rivelato un bidone clamoroso segnando il suo primo gol in Serie A dopo due anni dal suo acquisto Urbi Emanuelsson Fu impiegato praticamente in ogni ruolo mancante alla Bisogna ma rimane comunque un flop a tutto tondo Unica consolazione per la Roma è il pensiero che il Milan l'avesse fatta anche peggio e fosse costato persino di più Juan Manuel Iturbe Oltre 25 milioni di euro sborsati in maglia giallorossa invece fu una mezza tragedia Solo 3 gol all'attivo su 39 presenze Una serie di prestazioni sotto tono e l'unico acuto degno di nota fu il gol nel derby contro la Lazio Seduto Mbià Acquistato dal CSKA di Mosca per 14 milioni esordisce prima della sua presentazione ufficiale con una prestazione imbarazzante e venne fischiato da tutto lo stadio Venne mandato via dopo soli 6 mesi Seguimi per altri contenuti simili Grazie a tutti Grazie a tutti